La seconda versione di Sabbo proveniente dal tredicesimo starter risulterà competitivo? Quale sarà l'archetipo di deck che vedrà il rivoluzionario dire la sua nel meta che verrà, e le dinamiche che lo muoveranno risulteranno efficaci anche contro i leader più agguerriti? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Ci siamo, nei giorni che verranno i tre fratelli con il rispettivo starter faranno la loro comparsa, e se Luffy ad un primo sguardo poteva sembrare nettamente superiore agli altri, Ace e Sabbo dal canto loro non staranno di certo a guardare, supportati da mazzi che, nella tira attuale, diranno la loro. Il rivoluzionario, nello specifico, avrà a supporto l'imprevedibilità del giallo con l'aggressività del rosso a propria disposizione, pronti per essere utilizzati in combinazioni straordinariamente potenti che ridurranno in cenere ogni resistenza apposta da chi vi giocherà contro. Sabbo, infatti, avrà una schiera di rush pronti a combattere sotto il suo controllo, che potranno attaccare, se la sinergia andrà a buon fine, addirittura per due volte in un solo turno, costringendo l'avversario ad utilizzare le risorse difensive che avrà a disposizione per contrastare una minaccia che, turno dopo turno, diverrà sempre più crescente. Nel video di oggi, quindi, andremo ad analizzare le dinamiche che muoveranno questo deck, scoprendo le caratteristiche che lo renderanno pericoloso nel meta che verrà e quali saranno le sinergie che offrirà a tutti coloro che vorranno vestire i panni del capo di Stato Maggiore dell'Armata Rivoluzionaria. Signori, dalle statistiche di YouTube ho notato che, in media, il 77% di chi guarda i miei video non è ancora iscritto al canale. Pensate che, se solo la metà decidesse di supportare il progetto, si raggiungerebbero i 10.000 iscritti in pochissimo tempo. Perciò, datemi una mano, se ancora non siete iscritti, basta un click. Per voi è un semplice gesto, ma per me è di grande aiuto. Grazie per il supporto. Torniamo al video. Ed ora scopriamo assieme la lista del mazzo di Sabo Giallorosso. Andiamo a dargli un'occhiata. Partiamo dal leader, che con i suoi 5.000 punti di forza e 4 vite a supporto vi permetterà, una sola volta per turno, durante la fase principale, assegnandogli un singolo don, di aggiungere a faccia rivolta verso l'alto un character con costo pari a 3 o superiore, con forza pari a 7.000 o superiore dal terreno alla pila delle vite, andando inoltre ad aumentare di ben 2.000 punti il valore di forza di un altro personaggio già presente sul terreno fino all'inizio del vostro prossimo turno. La decklist in questione avrà un gran numero di fonti offensive che punteranno dritte alle vite rivali, e vedrà il quartetto di Garp, Ace costo 2,5, Luffy costo 2,3,5, quest'ultimo proveniente dal primo starter, Koala, Zoro Rush, Nekomamushi di OP06, Satori e Kikunojo, con la doppia coppia di Hiyori e Cracker per la parte character, assieme al duetto rappresentato da You're the one who should disappear, che chiuderanno sia il settore event che la profile. Le carte cardine di questo mazzo saranno di sicuro Ace e Luffy a costo 5, i Garp per andare alla ricerca dei pezzi che vi torneranno utili per velocizzare le dinamiche di gioco del deck, gli Zoro, le Kikunojo per il recupero di vite utilissime soprattutto nel late game, e i Nekomamushi per dare fastidio a pezzi pronti presenti sotto il controllo avversario. Mentre il resto servirà come contorno, andando a fornire quel grado di protezione che altrimenti lascerebbe il leader completamente sguarnito e alla merce degli assalti rivali. Altro fattore da tenere bene a mente sarà la sinergia tra i personaggi con Rush maggiori e l'effetto sia del leader che dei rispettivi bambini, dato che appena raggiunti i 10 don potrete impiegare uno dei due adulti, notate bene, bisognerà potenziare cappello di paglia per fargli raggiungere i 7000 punti forza, altrimenti niente innesco da parte di Sabbo, attaccare, utilizzare l'effetto del leader che andrà a piazzare in cima la propria pila delle vite e la fonte offensiva appena utilizzata, potenziando un altro eventuale personaggio presente sul terreno di 2000 punti, giocare un bambino attivando immediatamente dopo il suo effetto per far scendere di nuovo in campo il Rush dalla pila delle vite che potrà quindi sferrare un secondo attacco, assieme al leader che picchierà per 8000 ed altre eventuali fonti potenziate dallo stesso effetto del rivoluzionario. Ultimo ma non per importanza vedrà l'innesco di abilità trigger da parte di personaggi come Satori e Kikunojo, che appena ne avrete la possibilità dovrete buttare nella mischia soprattutto in previsione di un'eventuale chiusura e per dare libero sfogo all'effetto del leader. Quindi dopo aver visto l'intera lista e alcune dinamiche che la muovono, passiamo ora a qualche strumento utile per conoscere meglio il mazzo, ponendoci come sempre la solita prima domanda. Come funziona questo deck? La strategia principale sarà quella di preparare la board per avere tutto il necessario atto a sferrare quanti più attacchi possibili in un solo turno. Tenete a mente che nell'early game avrete molte risorse a disposizione, quindi assegnate bene i don per non lasciare scampo alle difese rivali. In più, aumentando la potenza dei character sotto il vostro controllo, potrete farli rientrare, a raggiungimento dei 7k, nel mirino dell'effetto del leader, rimbalzando quel che vi servirà anche in previsione di miss da parte di Garp. Per la fase offensiva avrete a disposizione quindi gli Zoro, i Cracker, i Nekomamushi, i Satori, solo se triggerati, le Kikunonjo, i Luffy del primo starter e gli Ace Rush, che non faranno dormire sonni tranquilli a chi vi giocherà contro, soprattutto se la dinamica dell'intero mazzo andrà in porto turno dopo turno. Per quella difensiva non avrete granché, infatti non saranno presenti blocker, ma una diversità di counter, li vedremo fra poco, che cercheranno di tamponare quanto più possibile gli assalti nemici. Trattando invece l'argomento mano iniziale, le carte must have da avere saranno di certo un Garp per andare alla ricerca di qualche bambino che vi tornerà utile già dalle primissime fasi di gioco, un Luffy Rosso magari accompagnato da un Ace Rush, un Kikunonjo e un Eko Mamushi. Se sarà così potrete procedere tranquilli, in caso contrario mulligan ed incrociate le dita. Parlando dei matchup, questo mazzo non temerà confronti, se non contro il giallo che attraverso i suoi trigger imprevedibili potrà annullare attacchi, distruggere personaggi alleati o, peggio, curarsi di più vite, andando a farvi perdere tempo che, per l'avversario, risulterà essere una manna dal cielo. Per il resto, state comunque attenti, di liberli fuori ce ne sono molti e tutti a loro modo pericolosi quel che basterà per ribaltare la partita a proprio favore. Per la win condition, quella che governerà le fila di questo deck sarà picchiare quanto più possibile per ridurre e impolvere ogni difesa avversaria, permettendo così ai rush maggiori, soprattutto il Luffy imbloccabile, di sferrare il colpo di grazia. Questo deck, infatti, sarà una versione alternativa della tipologia aggro e quindi vi dovrete preoccupare di pestare forte l'avversario prima che quest'ultimo vi prenda le contromisure. Invece, le carte obbligatorie, che non potrete assolutamente sostituire con nessun altro elemento, saranno i Luffy del primo starter, gli Ace con i loro controparti giovani, i Garp, le Kikunonjo e i Satori. Per il resto, potrete optare addirittura per una sostituzione di massa, recuperando il reparto rivoluzionario presente in OP 05 e 06, inserendolo in blocco, cambiando tutte le altre carte presenti nella profile. Se cercherete sul web, troverete alcune liste che giocheranno infatti Marley e compagnia a seguito. Infine, per la fase counter, avrete a disposizione 18 più 1000 e 14 più 2000, i quali dovranno essere utilizzati oculatamente, soprattutto perché, lo ripeto, non avrete risorse difensive sul terreno pronte a schermarvi da attacchi avversari. Quindi, pensate bene se e come utilizzarli in qualsiasi occasione. Prima di concludere, volevo fornirvi qualche informazione di base in più sull'utilizzo del deck. Sabo, di solito, parte per primo, avendo molti drop a costo dispari, ma anche per secondo di certo non soffrirà per mancanza di curva, vista la presenza di Kikunonjo e Nekomamushi, che forniranno un grande supporto in fase di allestimento dell'intera board. Concludendo, il Sabo giallorosso rappresenterà per tutti gli appassionati dell'archetipo Rush un validissimo elemento, pronto a scatenare contro gli avversari che gli si pareranno innanzi tutta la potenza dei tre fratelli riuniti. E voi, testerete attivamente le dinamiche di questo leader? Come sempre, fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci, vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia, noi ci vediamo al prossimo video.